Mister Gregoraci, uno scale A perfetto tatticamente, un pressing asfissiante e alto, non avete sbagliato nulla quest'oggi? Sì, da questo punto di vista sì, però sinceramente devo essere sincero, non mi sono piaciuti tanti i miei ragazzi perché passare da una prestazione come quella Gagliard di domenica contro la Reggio Med, oggi invece no, oggi abbiamo più pensato un pochettino a coprirci e a ripartire un po' di ripartenza per cercare il gol, però non mi è piaciuto sinceramente, devo essere sincero, non mi è piaciuto oggi. Però avete conquistato tre punti fondamentali per il proseguo del vostro campionato? Punti sì, fondamentali, questi erano uno scontro diretto, sono fondamentali, anche perché se dopo andiamo ad analizzare alla fine continui punti, però dobbiamo cercare da questo punto di vista di migliorare perché da domenica ad oggi abbiamo fatto cinque passi indietro, quindi così non va, non va perché voglio che la mia squadra gioca a calcio come è stato fatto in questi ultimi mesi e mezzo. C'è da pure notare che c'avevo altri carico fuori per infortunio, un Anzalone che non stava bene, due giorni che non stava bene fisicamente un po', quindi c'avevo tre, quattro giocatori sotto tono, però oggi Martino e Pizzoleo sono stati veramente superabili. Però devo dire che sia la Reggio, la Reggio è una squadra molto quadrata e Corigliano ha dei singoli molto importanti, veramente fondamentali, hanno un cambio passo incredibile. Quindi penso che loro, ma c'è qualche altra squadra che potrebbe dare un po' di fastidio, però secondo me lo giocheranno loro due. Adesso siamo con Nino Labate, team manager del Gallico Catona, un'altra sconfitta pesantissima, senza una guida tecnica. Che cos'è questo malessere del Gallico Catona, Nino? Allora, il Gallico Catona non ha nessun malessere, questo è un malessere che possiamo tranquillamente superare. Niente, secondo me dobbiamo adesso incontrarci nuovamente con tutta la dirigenza e ritrovare quella stabilità giustamente che ci sta mancando, perché trovare un nominativo, un allenatore che possa guidare il Gallico Catona, risollevarsi dalla classifica, tutto qua. Dobbiamo cominciare a fare punti e per fare questo ci vuole un allenatore. E si deve lavorare soprattutto sul piano psicologico? Guarda, soprattutto sul piano psicologico, ovviamente ci assumiamo tutte le nostre responsabilità, perché evidentemente se fino ad oggi siamo in queste situazioni, ovviamente abbiamo sbagliato, e quindi è colpa della dirigenza, si sa, tranquillamente. Adesso non stiamo qui a fare mia colpa, rimbocchiamoci le maniche e cerchiamo di fare quello che dobbiamo andare a fare. Siamo tutti uomini di calcio. Diciamo, per quanto concede la partita, non discriminano nulla i ragazzi, hanno disputato una partita discreta. Siamo stati anche sportunati perché abbiamo giocato contro 14 e non contro 11, perché la terna arbitrale è scandalosa, scandalosa, una terna arbitrale scandalosa. Punto, non dico altro.